Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Bellinzona e voglio mostrarvi un appartamento di 4,5 locali recentemente ristrutturato e molto luminoso. Eccoci, siamo esattamente dentro la porta d'ingresso. Alla nostra destra troviamo un grande armadio a muro a treante. Eccolo qui. Vi mostro subito alla nostra sinistra la zona giorno con cucina vista. Come potete vedere la zona giorno è molto ampia. Stiamo parlando di circa 40 metri quadri solo di questa zona. Ecco qui la meravigliosa cucina. La cucina è recentissima con una moderna penisola in mezzo. È completa di lavastoviglie, piano cottura, piano induzione, cappa, frigorifero, congelatore e forno. Molto bella, lineare, bianca, moderna. Questa zona è servita da un piccolo balconcino. Eccolo qui, ve lo mostro. Vi faccio vedere in lontananza la vista sui castelli di Bellinzona. E vi porto ora a vedere le camere. Questa abitazione presenta due camere. Una camera matrimoniale e una camera singola. E una camera che potrebbe essere utilizzata come studio. Qui alla nostra sinistra troviamo il bagno completo di vasca, vc e bidet. Eccolo qua. La vasca, vc e bidet. Un bel piano con lavabo. E subito alla sua destra troviamo la camera matrimoniale. Molto ampia come camera. Ci sta un bellissimo armadio a assaiante. E una grande finestra. Alla sua destra troviamo poi la zona che come vi dicevo potrebbe essere adibita a studio. In questo caso c'è uno piccolo spazio per i bambini con un fasciatoio. Subito davanti a questa camera troviamo il bagno di servizio con la doccia. Un lavabo e il vc. Ecco qui. Vi porto in ultimo a visitare la camera singola che ha comunque una buona metratura. Come vedete ci sta un lettino e una culetta oltre a un armadio qui sulla destra. Una bellissima casa. Anche il prezzo. Se volete vederla chiamateci di affitto. Grazie.